Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr Mario e oggi siamo qui finalmente su My Hero Once Justice. Ho appena finito My Hero Academia, tra l'altro l'ultimo episodio della quarta stagione uscirà domani. In questo primo episodio su My Hero Once Justice volevo andare a iniziare la storia. Ok allora ragazzi, stiamo per iniziare la modalità storia, andiamo subito ad avventurarci. Ma ora, stai facendo la storia, non è sicuramente di poterci. Per poterci, stai facendo la storia di me, per poterci, stai facendo la storia di tutti i amici, e tu. No, 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 no. Attenzione, si inizia. Andiamo con la prima missione, selezionando come personaggio Midoriya. Forza, c'è stato lui. Attenzione, a parte la sfida, credo sia il tutorial, va bene, iniziamo il tutorial, sono fatta, abbiamo lanciato via un vecchietto, ora che hai detto mi ho chiuso a tutto, va bene, attenzione. Pugnozzo in faccia, è tirato, eheh va bene, win. Non mi ricorda qualcosa, Missione numero 2, avventuriamoci, naie, attenzione abbiamo l'animazione, peccato che lagga, cosa posso farti vedere, provo a colpirmi nemmeno una volta ragazzo, non so il plus ultra. Andiamo a ammazzarmi, e lanciamo via Gran Torino, sfondiamo un caso, guarda lì, ecco che arriva, C'è un deserto, e vabbè, e vabbè, c'è che freccio morto, è perfetto, è incredibile, Missione 3, iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah era solo un video, obiettivo Stain, dobbiamo usare vita. E' anche per quel like alla fine, che sfiga. Gli stanno? Gli stanno? Gli stanno? Gli stanno? Gli stanno? Oh, l'abbiamo preso finalmente. C'è una spada in testa, non è bene? siamo colpiti tutti ah l'ho mancato così calcio in faccia attenzione arriva qualcuno e questo lo sappiamo usare vai missione numero 5 Gran Turino contro Novo eccoci che iniziamo Gran Turino non l'ho mai usato vai subito vediamolo vediamolo attenzione sarà che Novo che ha tanta vita ma ho l'impressione che gliel'abbia tolta un sacco vai vai mille di potuto si sono dietro in faccia 14 colpi bravo grande fantastico genio 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 Vai KO così, con undici colpi, peccati questi, win, dai eh, riuscite la S, come niente bonus, dai, tirchi, dai, almeno qui, visto che abbiamo miglioria, la S è d'obbligo, vabbè scherzi a parte, quanto è largo, semi colori, semi quadrati, partiamo bene vai, partiamo male, oh, l'ho presa e l'ho lanciata, e vai, e adesso se la schivi, se la schivi, la schiavata? no, volevo rigrabbarlo, secondo me, qui, almeno qui, la S, la S dai, abbiamo battuto in mezzo secondo, la mia S, esci la S, attenzione, vediamo i punti, e qui scatta la S, slab, ehi, la schiavata, la schiavata. la schiavata 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 il video del ditemo ok, è abbastanza difficile da usare perchè combatti da vicino con lui non è proprio il massimo va bene ah separati ahia, vorrei provare almeno a usarla ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, aspettiamo che si rialzi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo eeeh, plus ultra questo è un S questo è un S questo è un S dai, plus ultra dico io modestamente quella o era un S o era un S insomma dai questo episodio è giunto al termine siamo arrivati alla settima missione dal prossimo episodio continueremo dall'ottava missione in poi allora ditemi se vi sta piacendo questo gioco perchè a me sta strapiacendo vabbè, comunque dimmi se nei prossimi episodi volete che metta le parti di storia perchè comunque ricalcano di molto l'anime cioè lo copiano praticamente perchè quelle parti non le taglio perchè sono parti di storia integrante però scrivetemi qui sotto se volete che le tagli quindi se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e da ora non vi prometto niente ragazzi ma proverò proverò a portarvela ogni martedì come serie fissa quindi se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao